Scossa sismica a Malta, abbertita anche in Sicilia Supporto ai malati oncologici e ai familiari, iniziativa al via da oggi a Caltanissetta Provvidenza, processione nel segno della tradizione e distribuzione del pane benedetto Caltanissetta verso il villaggio di Natale, iniziativa del comune Stadio Tomaselli, il punto sulla situazione si attende la riapertura Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale Apriamo parlando della scossa sismica a Malta, abbertita anche in Sicilia Epicentro localizzato in mare ad una quindicina di chilometri a nord dell'isola di Gozzo Magnitudo 4.6, in collegamento da Malta il collega Vincenzo Pane Ben trovati da Malta dove oggi intorno alle 13.40 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 La scossa è stata avvertita anche in alcune località del sud della Sicilia L'epicentro è stato localizzato nell'isola di Gozzo, un'isola che si trova a nord dell'isola principale di Malta La scossa è stata avvertita anche in alcune località, alcune tra le più note quali St. Julian, San Juan e anche Luca dove ha sede proprio l'aeroporto Proprio all'aeroporto la scossa è stata avvertita soprattutto dai dipendenti che lavorano negli uffici delle compagnie aeree al primo piano della struttura dell'aeroporto internazionale Ma da quando hanno riportato da alcune testate maltesi non si sono registrati danni a persone o cose E adesso passiamo alla cronaca, operazione Full Control portata a termine dalla Guardia di Finanza nell'Ennese Due gli arresti, ma sentiamo i dettagli nel servizio La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Enna, coordinata dalla locale Procura della Repubblica ha scoperto un vasto giro di usura, riciclaggio e utilizzo di fatture false gestito da due fratelli leonfortesi che approfittando delle difficoltà economiche causate dall'emergenza Covid-19 si offrivano di prestare denaro a imprenditori locali in grave crisi di liquidità E' questo il contenuto dell'operazione Full Control condotta dalla Fiamme Gialle della Terenza di Nicosia che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due presunti usurai posti agli arresti domiciliari con il contestuale sequestro preventivo di beni e denaro per circa 400.000 euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna al termine di un'indagine durata più di un anno Sono complessivamente 20 le persone a vario titolo indagate per i delitti di usura estorsione, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori emissioni di fatture false e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti Decisiva è stata la collaborazione fornita dalle vittime degli usurai Questi, in particolare, sarebbero stati soliti erogare prestiti di denaro agli imprenditori in gravi difficoltà economiche aggravato oltremodo dalla crisi pandemica ottenendo in cambio la promessa o la dazione di interessi usurari fino a giungere in alcuni casi a impossessarsi delle loro aziende Dalle indagini avviate in seguito alle dichiarazioni rese da alcune delle vittime è infatti emerso che i due arrestati, una volta concesso il prestito e obbligata la vittima al pagamento mensile degli interessi, sempre superiore al limite massimo fissato dalla legge il cosiddetto tasso soglia, dinanzi alle prime difficoltà manifestate degli imprenditori nei versamenti periodici li avrebbero costretti a cedere a titolo di garanzia le proprie quote societarie, talvolta in modo occulto altre volte attraverso la loro formale acquisizione accompagnata tuttavia da pagamenti fittizi in altri casi, sin dall'origine la concessione del prestito sarebbe stata subordinata all'acquisizione delle quote societarie a titolo di garanzia e alla conseguente pretesa per la restituzione del prestito degli interessi di una parte dei ricavi aziendali in seguito, se le attività o i ricavi delle aziende non si rivelavano sufficienti a garantire il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale veniva richiesto alle vittime quale garanzia aggiuntiva il rilascio di cambiali firmate in bianco con l'intento in tal modo di prolungare il più possibile anche con violenza e minacce l'attività usuraria posta in essere dagli arrestati le indagini svolte attraverso accurata analisi bancaria inoltre hanno consentito di ricostruire prestiti concessi a un tasso di interesse che in alcuni casi avrebbe raggiunto il 200% anno E cambiamo ancora una volta argomento supporto ai malati oncologici e ai familiari iniziativa Alvia da oggi a Caltanissetta Il 7% degli italiani ha vissuto il tumore grandi sono i passi avanti fatti in ambito medico e tuttavia è necessario mantenere alta l'attenzione sul tema inquinamento ambientale, raggi solari, agenti infettivi, alimentazione, vita sedentaria Cattive abitudini, eccessi insieme al patrimonio genetico sono tutti fattori che possono incidere sul rischio tumore e quando la malattia è accertata diventa necessario anche intraprendere percorsi per il ritorno alla quotidianità attraverso la riabilitazione integrata oncologica È un servizio che si vuole dare agli ammalati affetti da tale patologia per ristabilire, riequilibrare il proprio assetto fisico, psichico, emotivo, relazionale perché ovviamente si guarda non soltanto alla malattia ma si guarda alla persona nella sua globalità quindi ci sono tutta una serie di attività che sono abbastanza prelegate che vanno dall'attività fisica all'attività psicologica ai incontri di yoga ai incontri con la psicologa ai incontri di estetica a passeggiate di gruppo il cui obiettivo è quello di come dire fare tornare alla normalità delle problematiche con l'aiuto di tutti perché l'incontrarsi significa aprirsi anche al sociale avere anche un aiuto reciproco In via Salvati sin da oggi i primi appuntamenti che in sei mesi con incontri di vario tipo supporteranno sia i malati oncologici che i loro familiari L'onconauta è quella persona che fa una introspezione che riequilibra il proprio assetto alla luce dell'esperienza che ha il tumore per gli strepitosi risultati ottenuti dalle terapie e per il notevole vantaggio dato dalla prevenzione hanno consentito di ampliare enormemente l'aspettativa di vita dei malati oncologici per cui diciamo molto spesso noi guardiamo e ci soffermiamo soltanto agli aspetti fisici però dobbiamo guardare non il malato e non solo il malato dobbiamo guardare alla malattia per entrambe le problematiche malattia e malato quindi avere anche un'attenzione per quanto riguarda tutti quegli aspetti ripeto emotivi, psicologici, relazionali, professionali lavorativi che una persona ha Nel corso del 2020 l'incidenza di questa malattia in Italia è stata stimata pari a 377 mila nuovi casi secondo quanto riportato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica prevenzione da un lato e riabilitazione integrata dall'altro possono fare la differenza Sarà presentata a Palermo mercoledì 23 novembre la rete oncologica siciliana Reos e il sistema sociosanitario per la cura e l'assistenza dei pazienti con patologie tumorali il seminario regionale che si svolgerà dalle 9 nella Sala Magna dell'Osteri Piazza Marina 60 è promosso organizzato dalla regione siciliana tramite l'assessorato della salute saranno presenti gli assessori alla salute Giovanna Volo e alle politiche sociali Nuccio Albano la prima delle due sessioni sarà dedicata ad approfondire il quadro normativo il ruolo del coordinamento regionale nelle attività di costruzione mattone dopo mattone della rete oncologica siciliana e la governanza della regione siciliana nella programmazione ospedaliera e nella realizzazione di una sezione dedicata alla Reos sul portale istituzionale www.costruiresalute.it E adesso parliamo del ruolo di prefetto di Palermo il Consiglio dei Ministri nomina Maria Teresa Cucinotta che dal 2015 al 2018 ha ricoperto lo stesso incarico a Caltanissetta il Consiglio dei Ministri ha nominato Maria Teresa Cucinotta prefetto di Palermo subentra a Giuseppe Forlani andato in pensione che era arrivato il 22 maggio del 2020 in piena pandemia e aveva coordinato tutti gli interventi per limitare la diffusione del Covid per Maria Teresa Cucinotta è un ritorno a Palermo dove è nata 63 anni fa e si è laureata come ultimo incarico è stata prefetto di Catanzaro dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense nel 1985 è risultata vincitrice del concorso per cancelliere presso la Corte d'Appello di Milano dal 1985 ha prestato servizio per tre anni presso la Prefettura di Messina dove si è occupata del contenzioso invali di civili dal 1988 fino al 2007 invece ha prestato servizio presso la Prefettura di Palermo mentre dal 2015 al 2018 Maria Teresa Cucinotta è stata anche Prefetto di Caltanissetta Alberi e Ambiente un'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Gianluca Bruzzaniti e Salvatore Petrantoni I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Toti, Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti in una interrogazione scritta visto che ieri 21 novembre ricorreva la giornata italiana dell'albero è considerato che con la legge numero 113 del 1992 che ha lo scopo di incrementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento i comuni italiani con la popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono provvedere entro 12 mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente a porre a dimora un albero nel territorio comunale e visto che da pochi giorni è stato nominato con delega alla transizione ecologica un neoassessore chiedono all'amministrazione comunale di portare a loro conoscenza e alla popolazione nissena quanti alberi sono stati piantumati dall'inizio di questa legislatura in rapporto ai nati registrati nell'anagrafe del comune di Caltanissetta dal 2019 ad oggi e di avere condezza di eventuali iniziative già calentarizzate a sostegno della problematica ambientale e di una dignitosa campagna di sensibilizzazione nelle scuole tra i giovani cittadini Visto che ieri era il 21 novembre ed era la giornata nazionale dell'albero che esiste già una legge ed è addirittura del 1992 la numero 113 che impone ai comuni che hanno più di 15.000 abitanti di piantumare un albero in relazione al neonato residente iscritto ovviamente all'anagrafe del comune stesso vogliamo delle certezze proprio per questo chiediamo dal 2019 ad oggi cosa è stato fatto in relazione a questa legge Nell'ambito del service piantiamo un albero del distretto 108 YB Sicilia governatore Maurizio Gibilaro e delegato Gaetano Cuda e Lions Club Caltanissetta dei Castelli ha regalato quattro querce al giardino botanico Brassica di Meoi del villaggio Santa Barbara in presenza del professor Amedeo Alberto Falci una delegazione del Lions Caltanissetta dei Castelli guidata dal presidente Antonio Alberto Stella è stata ricevuta dalla proprietaria Lucia Termini e da insegnanti allievi della scuola primaria del villaggio cioè l'istituto comprensivo Vittorio Veneto che si sono dimostrati preparati in tema di salvaguardia dell'ambiente e piantumazione e adesso parliamo della provvidenza e della processione nel segno della tradizione la pioggia ha lasciato che la processione in onore di Santa Maria della Provvidenza nel tardo pomeriggio di lunedì 21 novembre si svolgesse fino alla fine una timida pioggiorella ha segnato il termine dei festeggiamenti iniziati il 12 novembre cominciando a cadere proprio davanti il sagrato della chiesa di San Giuseppe quando il parroco Don Angelo Spilla rivolgeva le ultime parole ai presenti prima della benedizione finale ringraziamo il Signore perché ci ha dato di vivere e di sperimentare questi giorni sia di preparazione in onore ai festeggiamenti della Madonna sia in questa stessa giornata abbiamo potuto sperimentare come tanti fedeli provenienti dalle varie parti della città si uniscono al coro di quei nostri genitori di tutte quelle generazioni che ci hanno precedute che hanno venerato Maria Santissima con questo bellissimo titolo Madonna della Provvidenza una devozione che per la nostra città di Caltanissetta risale fin dal 1600 quando fu costruita la prima chiesetta dove adesso c'è l'attuale vogliamo pregare e chiedere alla Vergine Santissima che benedica le nostre famiglie che non ci faccia mancare il Signore il pane quotidiano e il pane spirituale penso ai tanti giovani particolarmente perché mediante anche la nostra testimonianza possano sentire questo affetto questa premura questa intercessione della mamma celeste che tutti quanti ci guida e ci assiste la processione che ha visto la presenza anche di una rappresentanza della real mestranza delle suore francescane del Signore della città e di numerosi devoti è stata preceduta dalla celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo della diocesi nissena così come avvenuto al termine delle altre messe della giornata è stato distribuito il pane benedetto offerto dai panificatori è stato distribuito sia il pane benedetto come anche il grano già dall'inizio di questa devozione a cui facevo riferimento venivano portati dei pani addirittura portavano anche delle pentole con delle pietanze che venivano distribuite ai carcerati e il pane ai poveri mentre i contadini portavano del grano veniva benedetto in uno dei mercoledì che precedeva la novena della provvidenza e dopo la benedizione questo grano i contadini lo riportavano nelle loro campagne e lo seminavano e il cui raccolto poi parte di questo veniva devoluto per incrementare il culto della Vergine Santissima le preghiere dei fedeli i brani suonati dalla banda musicale le melodie natalizie della zampogna insieme ai tamburelli hanno inondato le strade del centro storico e accompagnato il corteo partito da piazza San Giuseppe attraversando Corso Umberto piazza Garibaldi passando davanti la cattedrale per poi dirigersi verso via Palermo Corso Vittorio Emanuele e via 20 Settembre prima del rientro in parrocchia è stato anche intonato un canto proprio in direzione della chiesa della provvidenza ci siamo tutti quanti commossi abbiamo voluto proprio sostare all'inizio della via della provvidenza guardando sullo sfondo la facciata della chiesa che ha l'originale di questa copia del Pollaci questa copia che abbiamo portato e vogliamo proprio chiedere al Signore perché al più presto ci possano essere delle sovvenzioni pare che ci siano perché si proceda per i lavori di restauro particolarmente interni e ridare il suo giusto splendore onore per poter celebrare i sacramenti e onorare la Vergine Santissima nella sua casa Caltanissetta va verso il villaggio di Natale l'iniziativa del comune ma sentiamo i dettagli nel servizio dall'8 di dicembre giorno dell'immacolata concezione anche Caltanissetta si vestirà tema natalizio con le luminarie e l'accensione dell'albero di Natale a tutto questo si aggiungerà il villaggio di Natale infatti dall'8 di dicembre fino all'8 di gennaio in piazza Garibaldi ci saranno le casette dove saranno esposti prodotti artigianali agroalimentari e non solo il villaggio di Natale si pone come obiettivo alla promozione delle eccellenze locali e siciliane del buon cibo delle arti e delle tradizioni coinvolgendo aziende di produzione commercializzazione e associazioni il villaggio sarà costituito da 15 casette di legno e si svolgeranno nei fine settimana dell'8, 9, 10 e 11 dicembre 22, 23 e 24 dicembre 29, 30 e 31 dicembre e 6, 7 e 8 gennaio oltre agli operatori economici di prodotti artigianali e agroalimentari saranno presente obbisti e produttori di oggettistica locale e operatori economici di prodotti floreali per partecipare alla manifestazione si dovrà pervenire la domanda entro e non oltre le ore 10 del 28 novembre al sito del comune di Caltanissetta dove si potrà compilare il modulo di iscrizione per avere la casetta a titolo gratuito Sarà un villaggio di Natale rivolti a quanti hanno voglia di poter esporre i propri prodotti sia nel campo gastronomico che nel campo dell'artigianato ovviamente non ci saranno dei prodotti industriali infatti l'avviso parla chiaro a tra proposito vi invito a visionare il sito del comune proprio per poter aderire alla richiesta dell'utilizzo delle casette che ricordo sono assolutamente messe a disposizione e quindi gratuitamente Sarà un villaggio che prenderà inizio l'8 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale quindi delle luci dell'albero di Natale e quindi arricchito anche quest'anno dalla presenza del villaggio il villaggio che sarà aperto tutti i fine settimana a partire appunto dall'8 dicembre fino al 8 di gennaio durante i fine settimana si alterneranno anche una serie di eventi rivolti ai bambini perché anche quest'anno sarà un Natale speciale un Natale che verrà rivolto per emozionare i nostri bambini Parliamo di un'insolita installazione artistica di un commerciante alla Stratafoglia Avete mai pensato di trasformare il vicino in un'opera d'arte? Potrà sembrarvi bizzarro ma nel corso del tempo vari artisti hanno avuto questa idea ed hanno tradotto questo elemento in veri e propri pezzi d'autore esposti nei più importanti musei del mondo da Cattelan a Duchamp l'intento provocatorio in queste opere è piuttosto evidente ed hanno suscitato le reazioni più disparate all'interno della società ma qualunque fosse l'intento dello scultore espressione artistica oppure la provocazione non cambia il successo che hanno ottenuto perché se ne è parlato in passato se ne parla ora e se ne parlerà così come è successo a Caltanissetta al mercato della Stratafoglia dove il commerciante nisseno Luigi Miraglia ha pensato di installare un servizio igienico con una televisione sopra che ha suscitato polemiche e curiosità nei social ma che sta a simboleggiare un sinonimo di televisione spazzatura e invogliare le persone a non credere a tutto ciò che vedono ha dichiarato l'autore Via Libera al progetto definitivo per completare dopo 25 anni la diga di Pietrarossa nei comuni di Aidone e Mineo il presidente della regione Renato Schifani ha infatti dato il proprio assenso all'ultima proposta pervenuta dal commissario straordinario Ornella Segnalini nominata dal presidente del Consiglio dei Ministri per gli interventi di completamento dell'infrastruttura Il relativo decreto di approvazione a firma della Segnalini e del RUP Salvatore Stagno sarà pubblicato nei prossimi giorni consentendo così a Invitalia centrale di committenza per la regione di poter indire entro fine anno la gara da quasi 54 milioni di euro l'obiettivo è quello di giungere alla consegna del cantiere entro i primi sei mesi del 2023 e di completarlo nel 2026 e adesso un riconoscimento per la città di Caltanissetta che si qualifica come città che legge sentiamo nell'elenco dei comuni che hanno ottenuto la qualifica di città che legge per il biennio 2022-2023 c'è anche quello nisseno ben 718 i comuni che si sono qualificati avendo i requisiti necessari e che hanno presentato la candidatura a seguito dell'avviso pubblico di giugno il centro per il libro e la lettura di intesa con l'anci intende promuovere e valorizzare con la qualifica di città che legge si precisava nell'avviso le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio e poi ancora attraverso la qualifica di città che legge si intende riconoscere e sostenere la crescita socioculturale delle comunità urbane attraverso la diffusione si legge della lettura come valore riconosciuto e condiviso in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva ancora una volta quindi il capologo nisseno ottiene questa qualifica Caltanissetta ha in questi giorni ottenuto la qualifica di città che legge ma di che cosa si tratta? si tratta di un riconoscimento che conferisce il CEPEL a tutti i comuni italiani che hanno stipulato con i cittadini con le associazioni con tutti coloro che sono interessati alla promozione della lettura un cosiddetto patto per la lettura quindi è un bellissimo riconoscimento per la nostra città perché avremo la possibilità di partecipare a tutti i bandi del CEPEL che sono appunto riservati alle città che hanno questa qualifica ma soprattutto è un bellissimo punto di partenza per programmare attività di promozione della lettura sempre all'insegna della inclusione e della massima diffusione dell'amore per quello che un libro può trasmetterci in occasione della non edizione di Libriamoci il progetto che coinvolge le scuole di ogni ordine grado in Italia all'estero per valorizzare la lettura ad alta voce anche la scuola secondaria di primo grado Carducci diretta da Salvatore Parenti ha organizzato il 16 e 17 novembre scorsi iniziative di lettura a voce alta finalizzata a stimolare nelle alunne e negli alunni il piacere di leggere perché se leggi sei forte l'obiettivo del progetto in linea con l'altra iniziativa già adottata dall'istituto è quello di diffondere a crescere l'amore per i libri e l'abitudine alla lettura attraverso momenti di ascolto e di partecipazione attiva attraverso incontri con lettori volontari esterni e rimaniamo sempre a San Cataldo e parliamo della proposta di alcuni consiglieri comunali del PD e Le Spighe sentiamo propongono un regolamento sul bilancio partecipativo i consiglieri comunali di San Cataldo Francesca Cammarata e Marco Imera del gruppo Partito Democratico e Mario Lupi Chiara Fulco e Massimo Emma del gruppo Le Spighe fanno riferimento all'articolo 6 della legge regionale numero 5 del 2014 e ancora parlano del regolamento si teme infatti che si possano perdere le somme e non spese non possiamo permetterci di perdere fondi utili a progetti per la collettività affermano i consiglieri comunali del PD e delle Spighe dobbiamo cogliere inoltre tutte le opportunità per coinvolgere i cittadini a partecipare direttamente al governo della città il bilancio partecipativo è un'occasione per ridurre la distanza sempre più ampia tra le persone e le istituzioni aggiungono dando la possibilità a enti, associazioni e singoli cittadini di proporre soluzioni innovative per San Cataldo i progetti presentati dopo l'emanazione di un avviso pubblico previsto da regolamento proposto verrebbero poi sottoposti ad una valutazione di fattibilità tecnico-giuridica da parte degli uffici competenti si prevede anche il coinvolgimento della cittadinanza attraverso una votazione e infine a seguito della pubblicazione dei risultati l'amministrazione dovrebbe impegnarsi alla loro realizzazione tra gli articoli di regolamento anche una previsione specifica per il monitoraggio dei progetti proposti si precisa ancora e la pubblicità delle modalità di partecipazione al bilancio un aiuto agli apicoltori come rimborso per le spese straordinarie sostenute per l'alimentazione delle api lo prevede il bando del dipartimento dell'agricoltura della regione siciliana che con una dotazione finanziaria di 500.000 euro è rivolto a imprenditori apistici società e cooperative che abbiano sede legale e operino nel territorio siciliano e siano iscritti all'anagrafe apistica nazionale il sostegno consiste nel rimborso delle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 15 settembre 2021 per l'acquisto di prodotti per l'alimentazione di soccorso delle api le domande le domande dovranno essere trasmesse all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio in cui a sede legale l'azienda entro il 12 dicembre 2022 Dona un gioco per un sorriso quarta edizione della raccolta di giocattoli nuovi e usati Dona un gioco per un sorriso arriva alla quarta edizione raccolta di giocattoli nuovi e usati ma in buono stato che sin dal 2019 ogni anno vede trasformare la casa delle culture del volontariato in un luogo di generosità e che è stata di ispirazione per molte iniziative simili a Caltanissetta Noi abbiamo iniziato questa iniziativa nel 2019 quindi per quattro anno consecutivo dove non ci è fermato neanche il covid perché noi abbiamo continuato sempre con tutte le precauzioni possibili ma questa realtà non si può fermare noi abbiamo bisogno di dare gioia e giocattoli ai bambini che ne hanno bisogno l'abbiamo fatto tanti anni lo rifacciamo quest'anno quindi invitiamo la cittadinanza di poterci portare più possibile dei giocattoli giocattoli in buono stato o nuovi ecco questo è evidente perché noi dobbiamo soddisfare due realtà abbiamo per Natale andremo a contentare praticamente i figli dei detenuti che ogni anno l'anno scorso abbiamo dato 60 regali per i figli detenuti poi per l'epifania di domenica insieme all'associazione pistone con le macchine storiche faremo un giro nel centro storico dove andremo a condentare proprio i bambini che si trovano nel centro storico nei quartieri un po' e con una certa esigenza dove hanno difficoltà portare però il giocattolo non ci può mancare i bambini anche se hanno difficoltà del lavoro e di altre cose ma il giocattolo non può mancare perché i bambini hanno bisogno di avere questi momenti felici e oltre anche le parocchie che praticamente danno la loro disponibilità quindi vi invito a tutti essere abbastanza generosi ecco per fare felici i nostri bambini della nostra città un regalo il sorriso di un bambino che si illumina gesto capace di generare comunità e sostegno reciproco in città perché tutti i bambini possono gioire in uno degli anni dove la crisi è ancora più pesante da sostenere nuovo appuntamento con la settantesima stagione concertistica promossa dall'associazione amici della musica di Caltanissetta venerdì 25 novembre alle ore 18 e 15 presso l'auditorium del liceo musicale Manzoni di Uvara di Caltanissetta con ingresso libero ci sarà il concerto lirico del duo Floriana Sicari soprano e Maria Sicari pianoforte torniamo a parlare dello stadio Tomaselli il punto sulla situazione si attende la riapertura la questione stadio Marco Tomaselli sembra essere titoli di coda nei prossimi giorni si attendono le ultime notifiche e le ultime firme per aprire finalmente lo stadio e dare una casa alle società che possono praticare le loro attività sportive ne abbiamo parlato con l'assessore Marcello Franciamone i lavori sono ormai all'atto conclusivo voglio ricordare che questo lavoro è stato interamente finanziato dal Sport e Salute per un importo complessivo iniziale di circa 960 mila euro i lavori sono stati realizzati dall'impresa Fratelli Anastasi che si aggiudicò l'appalto con un ribasso del circa il 22% per cui i lavori i lavori strettamente legati appunto a questo appalto sono costati in totale circa 659 mila euro bene anche per oggi dunque è tutto non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà un netto miglioramento del tempo sull'Italia si allontana verso est la perturbazione transitata sul nostro paese altri sistemi nuvolosi atlantici lambiscono le regioni settentrionali ma senza conseguenze lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità con le nubi legate alla prima perturbazione che appunto si muovono lentamente verso est e poi altre nuvole che arrivano da ovest ma in realtà nuvole sta sfrangiata alta che si dimetterà a offuscare un pochettino il sole di tanto in tanto ripeto senza grandi conseguenze come precipitazioni al mattino ancora qualche pievasco sarà possibile sul medio adriatico e poi anche sul basso Tireno qui magari le piogge potrebbero insistere un pochettino di più ma si va verso un miglioramento del tempo e poi vi segnalo qualche goccina di pioggia sulle alpi occidentali quindi in definitiva ci attendo un mercoledì decisamente più tranquillo anche se come vi dicevo un po' di variabilità sarà ancora presente sul medio adriatico sul basso Tireno e sulle isole però si va verso un miglioramento anche in queste zone qualche pievasco sulle alpi occidentali con anche qualche fiocchettino di neve sulle cime più alte ma in realtà fenomeni isolati per il resto non mancheranno ampie scherite ma attenzione al primo mattino temperature basse al nord in molti casi vicine anche allo zero per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Del Poggio Viale Luigi Monaco Servizio notturno Eufrate Via Filippo Turati Servizio di Servizio di